Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il prossimo sabato, 28 settembre, inizia la nuova ed attesissima edizione di Ballando con le stelle. Le aspettative sono altissime e gli spettatori non vedono l'ora di scoprire cosa ha in serbo per loro la regina Millie Carlucci. Il cast è ormai completo, ma la domanda che tutti si pongono è Ci sarà Chiara Ferragni? Negli ultimi mesi sono circolate molte voci sulla partecipazione dell'influencer al programma, prima come concorrente e poi come ballerina per una notte. Millie Carlucci ha rivelato di aver cercato in tutti i modi di avere Chiara nel programma, ma alla fine la Ferragni ha preferito rifiutare l'invito. Ballando con le stelle, Chiara Ferragni non ci sarà. Millie Carlucci spiega perché. Millie Carlucci e i numerosi fan di Chiara Ferragni avevano sperato molto nella sua partecipazione, ma l'influencer ha preferito declinare l'offerta. Millie Carlucci ha spiegato che Chiara non se la sente. La Ferragni ha attraversato un periodo difficile tra il Pandorogate, la separazione da Fedez, l'abbandono degli sponsor e le questioni legali del divorzio. Questo vortice mediatico ha portato Chiara a rinunciare a Ballando con le stelle. Durante un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Millie Carlucci ha parlato anche di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Nonostante siano una coppia nella vita privata, e a te non deciso di programmare se si separa. La scelta sta fatta per garantire i concorrenti che partono a lui si sento. Siavesse sto io a vedermi.